Sì Mi sa che hanno... Prima erano qua e ci sono tanti sassi Non lo sapevo Montano? Per favore Una volta ho andato Io Pensi te che ci sono case? Mamma mia che verde, verde tutto Siamo qua Sì Queste persone che arrivano Arrivano da Vaprio Sì Quello che vedi? Quello lontano è nero Anche lì il parco Marta è lontanissimo Lontanissimo Ah sì ma quello lì è un parco da calcio Bello Bello Andiamo a quella parte Andiamo Questo qua Dai vieni Ma andiamo giù È scritto qua Sì Cosa ha scritto? Resci? No non ci vedo Io sì Cosa c'è? Che bello che è Aspetta che faccio una foto La mando ognuno qua Lui che va dentro in giro Eh sì manda lui Lui l'ho visto con Cesa No no non penso Ma perché non è vicino lui Eh perché sai quando abiti in un posto Non è che vai a cercare le cose vicine Questo cos'è Marta? Questo che è verde Qua 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 Sì Boh sai che non lo so Mi sa che cesa Lo vedo Anche quello cesa eh Quella là è la torre 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 È un po' quella degli Sforza quella Torre di? Sai? Sforza forse Non lo so Il castello di Milano degli Sforza è fatto tutto così Uguale uguale Mi sa che è una torre simile I pochi sono grandi Sì Marta Ci vuoi un postoporto per andare a Capriazio Qua loro fanno luce eh Loro fanno luce eh Loro fanno luce luce Questa è una strada eh Sì quella là Questo Sai? Che schifo E fa caldo Poi lei li tiene in mano così Eh sì Per quello Mi sa se sono buoni Sono buoni in realtà Ma Torriamo un bel posto e ci torriamo a mangiare le patassine va bene? Sì Sì C'è anche la Coca Cola Eh sì anche la Coca Cola Hai portato bicchiere? No Quelli no Qui? Andiamo lì Andiamo giù di qua o giù di là? È come vuoi Questo è la straccia come si dice Facciamo quella Dai facciamo quella Prendi la sua mano Vai piano 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 eh Piano piano eh Stai facendo un video Eh sì Dai vieni qua Dillo ciao Dillo ciao Gira Marta Gira sì Ciao 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 Adesso giriamo qua Gira Gira Eh sì Arrivato Chezza Sì E qua ha preso un signore Arrivata con bicicletta Ibrahim Drittamente giù Caspita Eh meno male Adesso faceva male lì eh Sì sì Vediamo cosa c'è lì Io non ho visto Ci faceva male lì eh Eh sì Andiamo lì Andiamo lì Dai Sono arrivati anche Qui a piedi E attenta piano Qua Guarda dove Questa Però Vai lavi le mani Monta Tanta Tanta Caspita Millecento Millecinque Ottanta Millecinque Tanto Presso tale ponte Fu posta Sul salice Un'immagine sacra di Maria Che allatta il divino bambino Un'ispiratrice della costruzione del santuario Caspita Questo è stato costruito nel 1641 Mamma mia Millecinque ha più di 400 anni No Quindi ho Quattrocento anni No Quindi ho Quattrocento anni Ti ho detto Io Che Tanto Tanto Si Non lo so Non so Non so Quanto peso hai Tanto 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 L'acqua Tanto 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 Lo so Vuole sapere? Eh no Ho già mangiato abbastanza, le patatini Ho già mangiato più di me Piano piano Scusa hai visto? senti qualcosa? senti qualcosa? ah sì, guarda lì, li vedi in un tali? un po' stai tenta quei pesci lì marroni dentro l'acqua sì li vedi? sì caspita ma sono giganti sì sì bellissimo andiamo avanti che torniamo non so che cosa c'è andiamo avanti io non ho andato mai che bello dove è terra? ah sì pensiamo andare giù cosa vuol dire? vedi che c'è più acqua rispetto a qui? sì ma ci sono le cuore se le uccide se le uccide senta fate la bici vedi che lì c'è più acqua rispetto a qui? sì perché sennò l'acqua sarebbe a questo livello qui anche lì anche qui no? e qui ci mettono quello perché così almeno noi possiamo passare ok è vero qua 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 non l'acqua tanto amplita eh qua 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 non l'acqua tanto io non capisco cosa vuole che è lontano dai vieni qua è lontano dai vieni qua è lontano hai presente dove era la rotondina? nooo vai 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 sali sali no non ci trovi la filtra non c'è andiamo avanti andiamo avanti qua tutto tre su molto meglio no? eh sì non è un posto bello eh hai visto quanto alto? sì quanto alto eh aspetta andiamo sotto andiamo sotto andiamo sotto il ponte? sì oh mamma hai visto hai fatto bene? hai fatto bene hai fatto bene c'è 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 quello lì c'è 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 quello lì la ho la ho la coda no 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 voglio andare a casa caspita sì sì hai visto questo tutto a ferro eh? si sferra cemento andiamo avanti adesso andiamo 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 anche voce è chiusa per quello urla uuuu 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 prun fresco eh dai avanti dai avanti sì sì per quello lui non voleva camminare Ma posso andare lì? Sì, certo che posso andare lì Come si chiama questo signore? Sì Guarda, guarda Sono grandi Guarda, come faccio? Grazie Domenico Come si chiama? Grazie Domenico Domenico? Sì Bu Grazie Domenico Questo è il comune di Capriate La seconda guerra mondiale Prendilo Grazie Io non ho visto Capriate È arrivata la prima volta Ma sei venuta qua? Sì, no mai Io qua ci passavo l'estate No, no, io non ho visto No, no, io non ho visto Ma io sono Domenico Di me Grazie a tutti i nostri spettatori